Il Movimento 5 Stelle torna sul caso dell'ospedale di Chieti e soprattutto sull'annunciato project financing al quale avrebbe intenzione di ricorrere la Regione Abruzzo, un progetto che come denunciato dai grillini comporterebbe una spesa maggiorata di ben 800 milioni di euro, un impegno economico trentennale che tra sei anni graverà in maniera significativa sulla Regione. Nessuna risposta dalla Regione Abruzzo sul tema e così 5 Stelle inviano una missiva all'attenzione di tutti gli attori coinvolti. Non c'è risposta per cui abbiamo inviato una comunicazione al Presidente D'Alfonso, a tutti i componenti della Giunta e a tutti i dirigenti perché abbiamo letto i documenti e il nostro non è un no ad un nuovo ospedale, il nostro è un no al ricorso alla procedura del project financing che costerà agli abruzzesi almeno 800 milioni di euro in più del dovuto. La preoccupazione resta quella di una dissennata spesa evitabile, l'alternativa esiste, spiega Sara Marcozzi che, dati alla mano e viste tutte le voci di capitolo annesse al project financing, ricorda la possibilità di ridurre la spesa da 3 miliardi e 200 milioni di euro a ben 2 miliardi e mezzo. L'alternativa è come si è sempre fatto e cioè la ASL ricorre autonomamente, la Regione ricorre autonomamente a affidare una progettazione e costruzione, i soldi ci sono, l'abbiamo detto più volte, eventualmente si può fare ricorso a cassa depositi e prestiti senza, come dire, gravare eccessivamente sulle casse della Regione e quindi sui cittadini.